Abbiamo affrontato due mesi dove abbiamo perso un po' la bussola, però siamo stati bravi anche con l'aiuto del mister nuovo, mister Luiso, siamo stati bravi a rindirizzarci verso comunque un finale di stagione degno da Chieti. Il mister ci ha portato innanzitutto tanta semplicità perché comunque lui esige molto a livello caratteriale, infatti io credo che in queste ultime due partite abbiamo cacciato tantissimo carattere fuori, forse è quello che è venuto un po' meno negli ultimi mesi. Quindi più che a livello tecnico, ti ripeto, lui ha saputo toccare le corde giuste e è riuscito a far cacciare il meglio ognuno di noi. Riccione comunque è stato costruito per i piani alti della classifica, quindi adesso la loro posizione può ingannare, ma comunque noi abbiamo preparato al meglio e stiamo preparando al meglio la partita di domenica che già sappiamo che è una partita difficile perché Riccione ha in rosa giocatori veramente di qualità. Quindi noi comunque dobbiamo semplicemente stare tranquilli, come hai detto tu, restare uniti, compatti anche nelle difficoltà e cercare di dare il massimo. Poi il risultato purtroppo a volte non è figlio dell'impegno, quindi noi comunque suderemo la maglia al 100%. Il risultato purtroppo a volte non è stato costruito per il risultato per il risultato per il risultato per il risultato. Grazie.